Un decalogo per la creatività di Federico Faggin. La creatività va coltivata e incoraggiata. La creatività nasce e prospera nella libertà, nel rispetto reciproco e nell'amore incondizionato per la virtute e canoscenza. Per citare le parole immortali di Dante. Io penso che la virtute è rappresentata dall'amore e dal coraggio, che devono ispirare il tipo di conoscenza che cerchiamo. Se limitiamo la conoscenza a quella tecnologica, con l'intenzione di avere un vantaggio competitivo, nel senso di essere superiori agli altri, corriamo verso il disastro.